buongiorno francesca mencaccia la nazione missa c'è stata questa questa sosta forzata a posteriore un'opportunità o questo non si sa però insomma o avresti preferito magari essere in pari con il calendario con le altre allora intanto buongiorno a tutti ma noi abbiamo presso quello che ci ha riservato alla situazione quindi non è di pensare non giocare è chiaro che poi si approfittia per fare un certo tipo lavoro un altro nel senso che abbiamo cercato di intensificare un po il lavoro laddove c'era qualcosa a recuperare e diciamo che ecco abbiamo sfruttato questa pausa per cercare di recuperare le migliori energie sia fisiche soprattutto per quei calciatori che erano momentaneamente diciamo fuori e sia magari a livello mentale quindi abbiamo cercato di essere di ottimizzarla ecco buongiorno mister carlo forcini ticorelli dell'umbria le chiedo un po il punto su sull'indisponibile su chi recupera una settimana in più per angela di serio immagino possa essere stata prolifica grazie non ho fatto nomi ma mi riferivo intanto a quei due perché anche i cong che abbiamo recuperato manca ancora olivieri non lo portiamo perché non è ancora pronto oltre ai due squalificati rossi e curato quindi la squadra è al completo tranne appunto questi due squalificati e olivieri che non ha ancora recuperato al 100 per cento buongiorno mister mauro betti umbria sport trg allora innanzitutto mi piacciono le statistiche visto l'ultima conferenza stampa del presidente il 90 per cento della gente è contenta dell'operato di castori e non solo è contenta dell'operato di castori ma dice che è lui cioè è lui che può salvare per luce da questa situazione anche se a questo momento è fuori dai dai play out quindi siamo in zona in zona buona lei è molto attenta anche al settore giovanile ha messo il rossa seghetti baldi lei guardando anche la primavera c'è qualche qualche prospetto che può fare al caso della prima squadra grazie allora intanto ringrazio per la fiducia e al tempo stesso diciamo che è meglio rimandare alla fine i bilanci perché poi portano male o perlomeno finché non sono definitivi lasciano il tempo che trovano per quanto riguarda i ragazzi della primavera ce ne sono sempre almeno 5 6 a volte 7 che si allenano con noi quindi sono monitorati teniamo sotto osservazione quando abbiamo avuto bisogno abbiamo aggregati abbiamo portati quindi io non mi sono fatto mai problemi stavolta viene baldi perché abbiamo recuperato in avanti sia i cong che di serio la settimana scorsa abbiamo convocato segretti due partite fa abbiamo fatto anche entrare quindi non facciamo tante non ci facciamo problemi a poterli schierare se necessario e comunque già in allenamento noi li come ho detto prima almeno 5 6 sono aggregati alla prima squadra quindi ne seguiamo passo per passo la crescita lo sviluppo eccetera il cittadella squadra ostica per tutti ricordando ripensando un attimo all'andata forse in particolare per il perugia ancora di più fare una domanda naturalmente forse forse per il perugia ancora più ostica come caratteristica di squadra ascolta il cittadella ostico di suo prescindere all'andata quello che ha fatto l'ultima partita quello che perché comunque sia conosciamo benissimo il valore cittadella la sua mentalità suo modo di giocare quindi non servono i precedenti poi sono uno che la partita precedente la giuve subito l'archivia perché sia nel bene che nel male non si può mai guardare la prossima partita con gli occhi di quella già passata per mille motivi prima di tutto perché c'è un nuovo avversario le partite ricominciano tutte a 0 a 0 ci sono situazioni nuove da affrontare quindi una volta giocata la partita finisce lì e poi ecco come ho detto prima non le motivazioni non ne abbiamo a prescindere da quello che è successo all'andata che magari abbiamo perso in casa noi siamo a 10 partite alla fine ci dobbiamo salvare e chiunque abbiamo di fronte che ogni appunto ogni settimana cambia l'avversario noi lo rispettiamo ma sappiamo che dobbiamo fare la nostra partita per portare a casa punti perché con quelli ci si salva quindi ho sempre sottolineato il fatto che noi lavoriamo su noi stessi perché lavorare a studiare è difficile ogni settimana si cambia avversario l'importante è che noi acquisiamo i nostri automatismi il nostro modo di giocare il nostro modo di affrontare le squadre che poi possono cambiare nei moduli di gioco o nell'atteggiamento però noi dobbiamo essere bravi a sapere dare risposte tutto quello che in campo si verifica perché comunque abbiamo le nostre la nostra organizzazione Carlo Giulietti, Minister quanto incide percentualmente l'aver recuperato elementi fondamentali? Andiamo a Cittadella, poi c'è una tre gare consecutive in casa, è quasi un record recuperare tanti elementi di qualità incide parecchio? Ma incide perché comunque adesso il campionato si sta andando verso l'ultimo periodo, avere tutta la nostra disposizione comunque aiuta perché poi adesso quando avremo tre partite in otto giorni più questa bisogna avere le risorse bisogna avere i giocatori perché è difficile poi recuperare come giochiamo noi che andiamo forte ogni partita recuperare al cento per cento dopo quattro giorni non è facile, non è semplice quindi se possiamo avere un ventaglio di soluzioni più ampio possibile questo ci agevola dopo Cittadella torneranno anche cose curate vabbè quelli due sono squalificati però questo adesso non si può dire mai quello che succede domani perché però di sicuro recuperare la migliore disponibilità dell'organico aiuta Mister non guardi di quello che è successo però il fatto che il Perugia nel giro di ritorno abbia perso quattro gare su cinque fuori casa mentre in casa ha avuto un rendimento diciamo importante è casuale oppure c'è qualcosa da rivedere per le partite fuori casa? I numeri sono fatti apposta per essere smentiti quindi intanto speriamo di smentire quelli negativi forse mai speriamo di confermare quelli positivi la prossima settimana fa rifarmi la stessa domanda ti rispondo in maniera opposta no no è un modo di dire ma è verità cioè noi cerchiamo di smentire questo fatto che le ultime partite fuori casa abbiamo perse poi se mi rifarai la stessa domanda la settimana prossima dirò che noi cercheremo di confermare i numeri delle partite casalinghe ognuno si dirà l'acqua proprio mulino se la metti come meglio gli fa comodo esatto infatti a voi queste sei squadre in due punti per tutti i campionati che hai fatto è un'anomalia al di là che è una difficoltà sono comunque un campionato che verrà giocato da tutte fino alla fine sicuramente però adesso è momentanea la classifica non ci lasciamo non credo che si esauriscano le ultime sei squadre il discorso della salvezza al campionato sono ancora 30 punti a disposizione sono anche tanti i 30 punti quindi qualche scala che sta leggermente più avanti secondo me devi stare attenta perché negli ultimi periodi la matematica dice questo sta a noi essere bravi a recuperare però anche le altre devono fare attenzione secondo me non si possono sentire tranquille non si possono sentire